Benvenuti a tutti. In questo momento c'è un problema. Nel mare c'è più plastica che pesci. Come si risolve questo problema con la comunicazione? Non si risolve. Però la comunicazione può servire a pubblicizzare e a sensibilizzare le persone verso un argomento così delicato che è quello del rispetto del nostro pianeta. Oggi voglio presentarvi un progetto di comunicazione fatto non da una grandissima agenzia che non sanno fare nulla, ma bensì da alcuni degli studenti dello IED di Milano. Il progetto si chiama Marine Letter, l'ultima spiaggia, insomma. Lasciamo stare l'inglese. E io farei parlare direttamente loro. Benvenuti. Presentatevi, per favore. Io sono Federica Sala, io sono Chiara Calabrese e io sono Alessandro Scutto. Loro hanno fatto un progetto che ora vedrete scorrere le immagini. Il link al progetto completo lo trovate in descrizione. Che affronta il problema della plastica, soprattutto nel mare, in una maniera ironica. E come sapete è una risata che salverà il mondo. Le lacrime? No. Hanno praticamente fatto questo progetto dove si ipotizzano delle creature marine dei prossimi 50 anni fuse totalmente con la plastica. Quindi la plastica prende il controllo del mare fino a diventarne il reale abitante. Voi avete costruito delle nuove specie animali. Come vi è venuta questa idea qui? Siamo partiti da quello che era il dato, che nel 2050, ma anche oggi, i rifiuti sarebbero stati più presenti nel mare rispetto che i pesci. E quindi abbiamo pensato, perché non facciamo diventare i pesci rifiuti? Quindi abbiamo dato vita a queste nostre specie marine. Ce ne dici qualcuna? C'è la Tampacis sepia. Che vedete passare in questo momento. Fatta da? Fatta da assorbenti. Assorbenti interni. C'è differenza. Poi? Poi c'era lo Xiris Maris Riccius. Lo Xiris Maris Riccius, che era fatto da una spugna con il cotton fioc. Quanto è italiana lei che parla a gesti. Una spugna con il cotton fioc. Poi un altro? E poi mi viene in mente la pannimilobatida, che era forse la più semplice di tutte. Abbiamo preso un panno da cucina e l'abbiamo fatto basculare. Allora, la cosa bella è che voi avete pensato a questo progetto per un target di persone ampissimo, ma soprattutto la cosa che mi fa impazzire è che ti tiene incollato intrattenendoti e solo alla fine ti fa riflettere. Voi avete non solo inventato questi animali, e poi però come l'avete declinato? Perché non avete solo costruito il mostriciatto, li chiamiamoli così. Cosa avete fatto? Abbiamo creato dieci spot, che erano dei mini documentari, quindi riprendendo quelli che sono i documentari. Poi abbiamo fatto le tre campagne stampa, che erano tre affissioni. Affissioni, poster, cioè parla con un linguaggio potabile. Di acqua. Poi abbiamo creato per un target più alto le pagine di Wikipedia. C'è giocatore di basket, da un metro e un tanto in su. Mentre per il target più basso, per i bambini, abbiamo creato l'album delle figurine. Quindi abbiamo reso queste cose collezionate. Però voi avete fatto un'altra genialata che vi state dimenticando, e vi ricordo che il link al progetto completo lo trovate qui nella descrizione del video, facciamo il gesto. Hanno anche fatto una sponsorizzazione, chiamiamola così, con i negozi di elettronica, facendo passare, sapete, nei reparti TV, dove ci sono tutte le TV, dove puntualmente i mariti si bloccano mentre le mogli guardano le lavatrici. Facendo passare i loro micro documentari che raccontano la specie marina. Vedete i video qui in questo momento. Certo, quei video hanno una pecca, io ve lo devo dire. Cioè, la voce fuori campo. Io non so chi sia stato a fare quella voce, ma è brutta, è proprio brutta. L'unica, poi il progetto è per me. L'oxili Maris Ericius presenta aculei molto appuntiti, armi di difesa per le prede affamate. Il 4,5% dei rifiuti in mare è costituito da cotton fioc, aiutaci a tenerlo pulito. No, però questo è, secondo me, un progetto di comunicazione in cui voi avete anche vinto un premio, giusto? Tre. Abbiamo vinto i tre. Tre, tre progetti. Allora, abbiamo vinto, partiamo dal basso, il secondo premio per la sezione virale. L'argento. Ma sì, ma dove? Spot School Award. Allo Spot School Award, si dice il concorso. Il nostro Salerno, lo Spot School Award, abbiamo vinto il secondo premio per la sezione virale, quindi di malattie parliamo, insomma. Sì, esattamente. Il primo per la campagna stampa. Ok. L'affissione. Il post. Quello che si attacca con la scopa. E mentre abbiamo vinto come miglior campagna, declino tasso più media. Voi l'avevate pensato anche per un reale brand, una reale associazione, che ovviamente era semplicemente volta a dare valore, che era lega ambiente. Ovviamente ci dobbiamo specificare che non è una campagna lega ambiente, ma è pensata per quello che è lega ambiente. Allora, questo progetto a me è piaciuto tantissimo, tanto da volervi in un mio video, perché rappresenta, secondo me, quello che deve essere la comunicazione oggi. Una creatività che non esplode, ma viene gestita. Avete inventato dei nomi, avete inventato un concetto, siete andati a fare una ricerca, ma soprattutto avete preso la stessa storia e siete riusciti a declinarla su un mare di mezzi. Dal poster, al micro documentario, addirittura a creare delle pagine wikipedia dedicate. E secondo me oggi, e qui lo dico non vi gasate perché ancora le dovete succare di latte, come si dice dalle mie parti, però avete fatto un progetto degno delle migliori agenzie di comunicazione, che secondo me meriterebbe molto di più. Ora, noi lo facciamo vedere a questi quattro scappati di casa che stanno vedendo il video. Però rappresenta quello che veramente è il pensiero creativo e secondo me è giusto dire che non bisogna essere creativi, perché siamo tutti creativi, ma bisogna saper gestire la creatività, togliere ciò che non serve e mettere, lasciare solo ciò che è significativo ai fini di un progetto. Io non so se vi ho dato visibilità, spero di no, ovviamente, perché dovete farcela da soli. Va bene, allora andate ad apprezzare il progetto e il link lo trovate. Vi lascio anche i profili LinkedIn di questi disperati se li volete seguire, perché oggi sono studenti, domani saranno di so... Eh... Designer creativi. E niente, come un auspicio per non sprecare plastica. Non usatela. Fatevi fare le corna. E niente, come un auspicio per non sprecare plastica.